Paolo Masini, qua vicino alla Lambra Iovinelli. Masini l'abbiamo intervistata tre anni fa, a febbraio del 2007, sulla nascita del Partito Democratico, oggi ci ritroviamo qua a sostenere Enzo Foschi e il mondo della cultura. Sì, fa bene a ricordarmelo perché ci parlamo e ci siamo visti altre volte, ma in occasione dell'iniziativa il PD che vorrei. Io credo che sia significativo tutto questo perché veramente Enzo ha continuato, oltre che vorrei, lo pratica quotidianamente, ha continuato a credere nello stesso Partito Democratico in cui credo io è quello di apertura, non delle correnti, ma delle cose fatte da fare e perciò la candidatura di Enzo Foschi credo che siccome rientra nell'ambito della bella politica vada sostenuta anche per questo. Buon lavoro. Grazie a voi.